Non è facile. In un momento in cui mi ricorda che si arriva a mezzo, che non ci sono i tempi, ma c'è una roba di armi con una mezza tra. E' una roba di armi, e noi abbiamo scoperto l'ultimo, che abbiamo scoperto l'armi con noi, e noi abbiamo scoperto un anno. La maggior parte è il trekker con una mezza, perché è un luogo limpi, e questo è il nostro lavoro, e questo è il nostro lavoro. e poi ci sono i tempi, e ci sono i tempi, come un armamento. Abbiamo un po' di palo, che ho fatto un po' di palo, e abbiamo fatto un po' di beton eiser, che è frustra l'armi, quando ci sono i tempi, e abbiamo fatto un po' di mora, e ci sono i tempi, che ci sono stati freddo, che ci sono stati rinnovati, e ci sono stati un debattamento nuovo e ci sono stati che ci sono stati e ci sono stati che ci sono stati un'esperienza di fare un'arma con lui, e ci sono stati creativi. Ci sono stati di telefon, ci sono stati il nostro esforzo che ci sono stati più vele che è tutto possibile, ma sempre ci sono stati di presenza, ci sono stati di un buraccio che costa di rinca, però di bani nostre faccio il tuo nostro esforzo per andare qui non rende e guardare il luogo più sicuro possibile il telefono mes lo che conosco è per il telefono che devono in cell è un po' facile per il telefono sia per curare o per portare però per quanto riguarda che stanno facendo il lavoro in cui la faccia il telefono l'accia per il telefono si sono in cui è una tua messa e il telefono quindi siamo iniziati a vedere che il telefono sia nel telefono ma ora abbiamo avuto un un plan che è che non è che non è dimenticare per limpiare il telefono che non è iningarciare In 2012 avevano 25 telefoni per la saca, non c'è una arma di rinca, non c'è una roba di rinca, non c'è una roba di rinca. In 2013 avevano 26 telefoni, in 2014 avevano 25 telefoni, in 2015 avevano 33 telefoni, e l'anno passato avevano 57 telefoni per l'anno.